Cassa della morte! Un minuto, l'anello è abbastanza vicino. A chi? Proprio a chi? Poi c'è uno zairo, livello 4. Non preoccuparti, non ti rallenterà. L'anello è vicino, 45 secondi. Qui c'è un calcio standard, livello 3. Siamo vicini all'anello, restano 30 secondi. Sono a terra! 10 secondi alla chiusura dell'area. Forza, forza, forza! Potrebbe esserci qualcosa di buono. Svegliatevi, l'anello si sta muovendo. Quell'affare fa male. Non ci sono abbastanza... ... C'è qualcuno, e non è qui per vendermi i doncetti. C'è qualcuno, e non è qui per vendermi i doncetti. Ti hanno individuata. Mi stanno colpendo. Ricarico gli scudi. Forza nel vuoto. Cosa credete? Non mi per la fuga schierta. Mi stanno sparando! Devo ricaricare i miei... Ricarico gli scudi. Ha battuto un nemico. Ricarico! Più veloce, più veloce, più veloce! Grazie a tutti.